Mafia, Maxi Blitz fra Palermo e New York, 19 arresti, bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino. E' morto lo scrittore Andrea Camilleri, aveva 93 anni, si è spento questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma. Salute e musica, assessorata alla salute, Asp di Palermo lanciano una campagna contro droghe e IDS. Buonasera, prima edizione di Medianews, oggi è mercoledì 17 luglio. Mafia, Maxi Blitz fra Palermo e New York, 19 arresti, bloccato il ritorno dei clan Inzerillo e Gambino nel quartiere di Passo di Irrigano, zona sud della città. In manetta anche il sindaco di Torretta, Salvatore Gambino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Dall'alba di oggi, più di 200 uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dell'FBA di New York stanno eseguendo numerosi provvedimenti restrittivi disposti dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Palermo nei confronti di esponenti del mandamento mafioso di Passo di Rigano, che dovranno rispondere a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso ed altro. Le indagini dell'operazione denominata New Connection hanno registrato il forte legame instaurato tra Cosa Nostra Palermitana e la criminalità organizzata statunitense, con particolare riferimento alla potente Gambino Crime Family di New York, nonché la forte capacità pervasiva da parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano sull'economia legale dell'omonimo quartiere, secondo una capillare divisione di ruoli e mansioni, dalla fornitura alimentare all'ingrosso alle classiche estorsioni, passando per la gestione dei giochi e delle scommesse online. A Passo di Rigano avevano ricostruito la loro roccaforte criminale, importanti esponenti della famiglia in Serillo, una storica cellula mafiosa palermitana decimata negli anni Ottanta dalla Seconda Guerra di Mafia. Agli esiti delle indagini è risultato, infatti, che questi scappati e rientrati in Italia nei primi anni 2000 avessero ricostruito le fila della famiglia anche grazie al ritrovato equilibrio con la fazione criminale avversa. Nel corso dell'operazione si è altresì proceduto al sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie riconducibili agli indagati per un patrimonio quantificato nell'ordine di circa 3 milioni di euro. In manette è finito anche un insospettabile ritenuto a disposizione del clan il sindaco di Torretta, Salvatore Gambino, che adesso è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. E' morto. Lo scrittore Andrea Camilleri aveva 93 anni. Si è spento questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da quasi un mese. Non ho rimpianti, non ho paura di niente, neanche della morte, aveva detto in una recente intervista. Andrea Camilleri si è spento questa mattina all'ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria. Lo ha comunicato la ASL. Le sue condizioni erano sempre rimaste critiche e si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà dello scrittore e della famiglia le sequie saranno riservate. Verrà reso noto però dove portare un ultimo omaggio. Il 15 luglio scorso lo scrittore, che il 6 settembre avrebbe compiuto 94 anni e da qualche anno era ormai cieco, era atteso per la prima volta sul palco delle antiche terme di Caracalla, in una serata speciale di teatro con l'autodifesa di Cainò. Andrea Camilleri è diventato autore di bestseller a oltre 70 anni, con un successo che ha raggiunto cifre da record. Autore di oltre 100 libri pubblicati, ha venduto 25 milioni di copie in Italia ed è tradotto nelle lingue di tutto il mondo, dal giapponese al gaelico. I suoi libri non facevano in tempo ad uscire, che entravano subito in testa alle classifiche dei più venduti, piacendo dal nord al sud Italia e a lettori di tutte le età. Per 70 anni è stato regista teatrale e sceneggiatore. Nel 1949 è entrato all'Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma e ha realizzato diverse opere, ispirandosi a Pirandello. Sono proprio questi gli anni in cui ha conosciuto la moglie Rosetta, dalla quale ha avuto tre figlie. Rosetta è stata la spina dorsale della mia esistenza, ha dichiarato più volte. Nel 1957 è il debutto in Rai, mentre negli anni 70 è il ruolo di insegnante di regia all'Accademia di Arte Drammatica. La passione per la scrittura però è sempre stata il suo vero amore, che lo ha portato all'enorme successo del commissario Montalbano. Nelle ultime interviste Camilleri ha dichiarato Ho avuto una vita fortunata, non ho rimpianti e non ho paura di niente, neanche della morte. Se potessi vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio punto passare tra il pubblico con la coppola in mano. Lavoratori Blutec di Termini Mere e Sensitin davanti alla prefettura di Palermo in attesa da aprile della Cassa Integrazione chiedono l'intervento del Governo nazionale anche per un piano di rilancio industriale che dia nuove prospettive lavorative ai circa 1000 ex lavoratori tra impiegati ed indotto. Oggi siamo qui in prefettura per cercare di sollecitare anche il Ministero del Lavoro affinché si sblocchi la situazione della Cassa Integrazione per i lavoratori della Blutec e per cercare di sollecitare anche un incontro al Ministero perché il tempo stringe e abbiamo bisogno di trovare una soluzione occupazionale duratura nel tempo. Siamo in assenza della Cassa Integrazione dal mese di aprile quindi attendiamo il pagamento dei mesi di maggio e di giugno e il decreto per la copertura degli ulteriori sei mesi dal primo di luglio fino al 31 dicembre di quest'anno. Tutto questo sperate ancora in un piano industriale per ritornare a vivere? Certo, noi abbiamo bisogno che la politica sia al nostro fianco, che lo Stato sia al nostro fianco. Abbiamo bisogno che la politica regionale si intesti la vertenza per come ci è stato detto mille altre volte. Abbiamo bisogno che si trovi una soluzione in accordo anche con il Governo centrale. Noi siamo stanchi di vedere la nostra terra come una terra di conquista dove il finanziamento pubblico viene preso facilmente e i soldi non vengono investiti nel territorio e non si parte con dei progetti industriali che diano nuovamente dignità a questo territorio che per oltre 40 anni ha prodotto eccellenze. Dal 2017 un'alleanza tra soggetti pubblici e del privato sociale ha reso possibile la realizzazione di ragazzi a raga, progetto di inclusione sociale per minori migranti soli coordinato all'associazione Ciai. La cartella sociale è una delle azioni più innovative del progetto, modello replicabile per facilitare, rendere omogenei e fruibili i dati sul percorso di ogni singolo giovane. Questa mattina la presentazione alla stampa a Palazzo delle Aquile a Palermo. I minori sono persone, non sono un numero, che ogni minore è una persona, ha un suo profilo, una sua storia, una sua esperienza, le sue esigenze, i suoi sogni, i suoi diritti ed avere cura significa evitare la logica dei numeri e cercare di avere attenzione alla persona. Così si costruisce una comunità, una comunità fatta di persone, non di individui chiusi nel proprio egoismo. In questo caso questo progetto come si sta sviluppando? Si sta sviluppando attraverso la redazione di una cartella che serve in qualche modo come carta di identità, di differenziazione di un minore da un altro minore e che consente agli operatori sociali dell'amministrazione comunale, agli operatori sociali e anche al volontariato di avere cura del minore tenendo conto delle sue caratteristiche, delle sue esigenze e dei suoi diritti. Il progetto Arraga dal 2017 ad oggi ha costruito tante azioni per favorire l'inclusione sociale dei minori migranti arrivati qui da soli, quei ragazzini giovanissimi senza mamma, senza papà, senza riferimenti familiari che hanno già vissuto anni di viaggio terribili, hanno attraversato la Libia, sono sopravvissuti al Mediterraneo e sono arrivati a Palermo. Il progetto prevede l'inclusione lavorativa, abitativa, il bilancio e l'emersione delle straordinarie competenze di questi ragazzi attraverso tantissimi laboratori che ne hanno coinvolti 240 e poi la cartella sociale che presentiamo oggi. Sostanzialmente un database di informazioni per ogni ragazzo condivise e costruite attraverso la partecipazione di tutti gli attori sociali che collaborano a costruire i percorsi di inclusione di questi minori quindi la scuola, gli assistenti sociali del comune, le comunità di accoglienza ma anche la clinica legale dell'università o i tastra dell'università di Palermo perché è fondamentale che questi ragazzi possano costruire dei percorsi di inclusione sensati, coordinati congruenti anche con quelli che sono i loro sogni e i loro desideri soprattutto in un momento storico così difficile in cui le nuove politiche sulle migrazioni e la nuova normativa stanno rendendo sempre più complicato costruire un futuro per questi giovani e queste giovani. Si può dire che l'anello debole della catena dei migranti sono proprio i minori non accompagnati che spesso spariscono nel nulla. Allora è vero che molti minori si perdono le tracce perché c'è un sistema di accoglienza spesso inadeguato per i bisogni di queste giovani persone però è anche vero che in una città come Palermo in questi anni si è sviluppato un vero e proprio modello che ha integrato le risorse del privato sociale, dell'amministrazione, delle istituzioni per cui si è fatto un lavoro straordinario e molti minori sognano di rimanere in questa città. È anche vero però che con le nuove leggi, con il decreto sicurezza, non quello bis ma quello precedente la cancellazione per esempio del permesso di soggiorno per motivi umanitari tutti questi ragazzi che sono andati a scuola, hanno fatto i tirocini lavorativi, parlano perfettamente l'italiano e rischiano oggi di diventare i nuovi irregolari. Movida nella legalità a Palermo, le linee strategiche adottate in prefettura dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le linee di azione in merito alle problematiche di illegalità durante la Movida notturna nel centro storico sono state decise dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto Antonella De Miro. Di intesa con il sindaco Orlando è stata individuata una strategia di azioni a tutela della legalità, del decoro urbano e della guiete pubblica nelle vie del centro con una coordinata sinergia istituzionale che vede il coinvolgimento anche dell'azienda sanitaria provinciale e dei vigili del fuoco e la definizione di un lavoro di squadra con tutte le altre istituzioni preposte alla sicurezza. Sono state tracciate le coordinate per mettere a punto incesivi interventi di contrasto all'abusivismo commerciale perpetrato da titolari di locali del centro storico, alcuni in precarie condizioni igienico-sanitarie. Tre a riguardo sono le principali direttrici di azione. È stata decisa l'attivazione di pattuglie appiedate e interforze che opereranno lungo i percorsi cittadini del centro storico. Inoltre è stato predisposto a Piazza Villena un ufficio mobile interforze. Particolare attenzione la prefettura la dedicherà ai requisiti soggettivi dei titolari e gestori degli esercizi pubblici per garantire ogni aspetto della sicurezza. Particolare attenzione ancora sarà dedicata anche al rispetto delle concessioni di suolo pubblico per la collocazione dei gazebo o dei ors affinché non vengano occupati in maniera indiscriminata gli spazi pubblici dedicati alla mobilità pedonale e dei mezzi di soccorso. Misure organizzative per garantire la maggiore funzionalità dell'ufficio su app in particolar modo attraverso una implementazione di procedure di protocollazione informatica e di collegamento con le altre banche dati esistenti allo scopo di procedere a immediati tempestivi controlli sulla legittimità delle attività economiche di cui viene comunicato l'avvio. L'azienda sanitaria provinciale curerà di vigilare sul rispetto delle norme di settore a garanzia della salute pubblica i vigili del fuoco cureranno di segnalare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. A Caltanissetta presso il Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, 100 giovani da tutta la Sicilia si sono riuniti per ripartire dai 12 punti dell'appello ai liberi e forti di Don Luigi Sturzo per una giornata di formazione e di condivisione di idee per costruire insieme le nuove linee politiche dell'Udc. A parte questa giornata di lavori che mette al centro i giovani, i giovani da tutta la Sicilia, ecco è un'antifona importante. Dobbiamo realmente investire sui giovani, diversamente non c'è futuro. Oggi io voglio costruire un percorso nuovo, una stagione nuova assieme a tanti amici anche assieme all'onorevole Figuccia che me lo trovo sempre accanto una nuova stagione che veda impegnati nelle istituzioni giovani. Oggi voglio presentare, vogliamo presentare alla Sicilia anche con il nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa vogliamo presentare un gruppo di giovani per costruire una nuova stagione. L'abbiamo innestata nel concetto dei liberi e forti di Don Sturzo al segretario regionale De Cioterrana di aver saputo ben coniugare l'esigenza di un impegno territoriale con quello che è il pensiero, la dottrina sociale della Chiesa che in Sturzo trova la sua massima espressione. Se 100 giovani decidono di far ripartire con un motore forte attraverso le istanze del territorio un movimento capace di aggregare tanta gente significa che questo partito ha davvero tanto da dire e ha tanto da dire a partire, io ritengo, da due temi fondamentali come ho detto nel mio intervento che sono quello del lavoro, ma non del posto di lavoro quello del creare il lavoro da una parte e dall'altra quello dell'autonomia un'autonomia che guarda al municipalismo che guarda al rilancio della questione meridionale il sud è completamente scomparso all'agenda politica del paese Dottrina asturziana che è attuale più che mai Difendere la libertà, rimettere al centro della politica la concretezza che Don Sturzo ha messo anche nel suo appello quindi parlando di lavoro parlando anche del posizionamento di un paese a livello internazionale già da 19 sono cose molto attuali che bisogna continuare a portare avanti soprattutto l'aspetto valoriale cioè un partito di difesa dei valori ecco noi siamo appunto quel partito l'unico partito forza dell'estate in Italia che è ancora a cuore la difesa dell'identità cristiana del proprio popolo difende la famiglia, la vita senza senza me quindi richiamandosi alla dottrina sociale della Chiesa e questo è quello che vorremmo fare ripartendo dai giovani come abbiamo fatto oggi in Sicilia per ricreare una classe dirigente che faccia politica a livello locale quindi nei comuni per arrivare fino a livello nazionale 100 giovani è un capitale sociale, umano e oggi diciamo anche politico per la futura classe dirigente ma guarda è veramente difficile fare politica poi riuscire a parlare con i giovani diventa un'impresa ardua noi ci continuiamo a provare perché ci crediamo per davvero in quello che facciamo e lo facciamo perché riteniamo che in questo paese serva un po' di moderazione di buonsenso di tolleranza e di disponibilità al dialogo questi impositori delle linee politiche che passano tramite messaggi falsi e distorti a noi non appartengono Due giovani palermitani si sono aggiudicati le borse di studio dal valore complessivo di 20.000 euro messe in palio da Istud e potranno dunque partecipare ai master che avranno luogo a Baveno sul Lago Maggiore a partire dal prossimo mese di novembre a seguire il master in Marketing Management sarà Riccardo Panzarella di 21 anni mentre per il master in Food and Beverage sarà Riccardo Dispinseri di 22 anni È difficile dire il mio futuro però sicuramente diciamo nella realtà aziendale oppure imprenditoriale comunque mi piacerebbe molto realizzare le mie idee è un po' un sogno e poter appunto esprimere me stesso sicuramente mi piacerebbe raggiungere un livello di manageriale all'interno dell'azienda avere a che fare con quindi con le risorse umane sicuramente e sviluppare diciamo dei piani di marketing efficaci per le aziende In quale settore pensi di volerti specializzare? Su quello ancora non sono sicuro però diciamo ci sono interessanti opportunità per esempio anche nell'ambito del Food and Beverage ho dei miei progetti già in mente e quindi mi piacerebbe lavorare a quelli se non comunque o da solo appunto come imprenditore e sviluppare le mie idee o comunque insieme a delle grandi realtà aziendalistiche Come prima cosa ho intenzione di implementare le mie competenze in lingua inglese per prepararmi al meglio ad affrontare questo master e successivamente con le competenze che acquisirò tramite il master cercare di creare una realtà imprenditoriale che sia compacente a quelli che sono i miei interessi ovvero l'ambito ristorativo e entrare nell'ambito delle consulenze in modo da poter investire le mie competenze in qualche modo e d'altro canto invece acquisirne delle nuove tramite l'esperienza Presumi di restare in Sicilia oppure di trasferirti all'estero per svolgere al meglio la tua attività? Dal momento che in Sicilia abbiamo alcune tra le più grandi produzioni di eccellenza italiane nel mondo nel settore alimentare io sono seriamente intenzionato a rimanere qua però d'altro canto mi rendo conto che non è detto che sia necessariamente realizzabile per cui non mi precludo neanche la possibilità di spostarmi in Italia o all'estero per una cerca di opportunità nuove e più ambiziose Salute Musica Assessorata alla Salute Asp di Palermo lanciano una campagna contro droghe AIDS tra gli appuntamenti domani in occasione del concerto di Calcutta si prosegue con Massimo Ranieri il 2 agosto e con Antonello Venditti il 29 all'interno di un camper ambulatorio sarà possibile fare gratuitamente gli screening e ottenere informazioni o consulenza psicologica tre importanti momenti musicali a Palermo i concerti di Calcutta domani sera Massimo Ranieri il 2 agosto e Antonello Venditti il 29 tre occasioni per dire di no alle dipendenze da droghe e alcol e fare prevenzione contro le malattie sessualmente trasmissibili come l'epatite A la AIDS la Sifili dell'HIV passando a stili di vita più corretti è il contenuto della campagna di sensibilizzazione prevista dal piano regionale della prevenzione che l'assessorato alla salute della regione siciliana insieme con l'ASPE di Palermo hanno diffuso una unità mobile perfettamente allestita all'interno per effettuare ogni sorta di screening e fornire consulenza psicologica sarà presente in prossimità del palco dove si terranno i tre concerti all'interno del camper medici psicologi assistenti sociali personale sanitario inviteranno il pubblico che si recherà gli eventi musicali a fermarsi entrare per qualche minuto e verificare il proprio stato di saluto o semplicemente distribuire qualche utilissima e concreta informazione su come la prevenzione possa significare in molti casi salvare la vita domani in occasione del concerto di Calcutta la prima tappa del camper è dedicata ai giovanissimi ai giovani dai 14 ai 26 anni a loro sarà distribuita una preziosa mini guida intitolata goditi la vita con i 10 punti fondamentali da osservare per non contrarre il virus dell'HIV o di altre infezioni che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali all'interno dell'opuscolo un profilattico il numero verde è sempre attivo 800 86 10 61 a cui ci si può rivolgere in caso di screening o sospetto di avere contratto infezioni la campagna di informazione e sensibilizzazione alla prevenzione proseguirà il 2 agosto al concerto di Massimo Ranieri con la promozione degli screening oncologici le vaccinazioni contro le malattie infettive la prevenzione delle malattie cronico-degenerative come cardiopatie ictus tumori diabete disturbi respiratori cronici che hanno alla base fattori di rischio modificabili con un corretto stile di vita ed è proprio sui corretti stili di vita che il camper dell'ASP si soffermerà in occasione del terzo concerto quello di Antonello Venditti coinvolgendo il pubblico di tutte le età dal degrado alla bellezza il castello di Maredolce a Brancaccio diventa palcoscenico della prima edizione di Stupor Mundi l'iniziativa promossa e organizzata all'associazione Castello e Parco di Maredolce in collaborazione con la soprintendenza e beni culturali di Palermo e il comune di Palermo prenderà il via domani dalle 9 alle 14 con Ex Tempora i luoghi della bellezza un'estemporanea di pittura e fotografia curata all'architetto Rosanna Argento da decenni che lavoriamo affinché si possono raggiungere questi risultati però la tenacia di tutti i soci del territorio dell'amministrazione comunale e degli enti ci premia finalmente portiamo alla ribalta Brancaccio e questo meraviglioso palazzo che è la Favara Maredolce noi abbiamo giorno 18 un'estempora di pittori e fotografi così finalmente si possono sbizzarrire in tutte le varie angolature del parco e del palazzo di dipingere e fotografare Maredolce poi il giorno 21 e 23 ci saranno due spettacoli del teatro biondo stiamo raccogliendo veramente buoni frutti dopo tanto lavoro noi ci abbiamo sempre creduto in 20 anni veramente di associazionismo attivo possiamo dire che stiamo cominciando un nuovo percorso in questa realtà che ci vede coinvolti ma vede anche coinvolto non solo il quartiere ma tutta la città di Palermo ci ha avvicinato molto ai cittadini che abitano questo quartiere ed altri per far vedere che non sempre e comunque sarebbe opportuno non accostare Brancaccio uguale mafia Brancaccio è anche cultura ma è anche disponibilità ad aprirsi a tutto il mondo culturale che vede all'interno anche dei quartieri delle bellissime professionalità si parte domani con appuntamento con fotografia e pittura con Ex Tempora i voloi della bellezza si intende proprio dare una spinta alla conoscenza e alla capillarità proprio di divulgazione della storia abbiamo avuto per questo il piacere di unire Ex Tempora che è proprio una i paesaggisti Amplenair che lavorano Amplenair proprio sul territorio e quindi che prendono il respiro un po' di Ruggero che aveva fondato il palazzo e che quindi aleggia ancora quel genus loci che lui ha impostato lì e quindi permettere questa cassa di risonanza attraverso una forma d'arte modernissima come la fotografia e una forma d'arte antica come l'Amplenair e il dipingere all'aria aperta Abla è una festa di tre giorni presso il geosito dell'Arco Azzurra a Mongerbino luogo strappato all'abusivismo criminale della costa di Aspra e ora affidata al Circo L'Arci Natura e Cultura che insieme al Circo L'Arci Box e numerosi altri partner è organizzatore dell'evento stiamo organizzando questo festival si chiama Abla che poi in realtà è un acronimo sarebbe Ambienti Beni Comuni Legalità e Accoglienza per sviluppare una serie di tematiche legate al territorio che vanno appunto dalla riqualificazione costiera all'area SIC come prendersi cura un po' del territorio dal punto di vista ambientale proprio per poi anche sviluppare il giorno seguente tematiche legate all'accoglienza all'integrazione e il 19 l'ultimo giorno sviluppare invece tematiche che riguardano appunto la legalità ai beni confiscati e la ricorrenza appunto della strage di Via D'Amelio le giornate saranno praticamente sviluppate secondo diciamo una scaletta prefissata a seconda appunto delle tematiche il primo giorno si comincerà con l'ambiente e saranno presenti tantissime associazioni ambientaliste che si occupano appunto di prendersi cura del territorio cominciare per esempio da Friday for Future dal Comitato Giovane Baria dalla Lipu che fra l'altro gestisce anche questo Giosito dall'associazione Opunzia da altre associazioni appunto che si occupano diciamo di beni ambientali e di riqualificazione appunto delle aree parteciperemo anche alla seconda e alla terza giornata quella dell'accoglienza della seconda e l'ultima quella sulla legalità e siamo molto contenti di partecipare a questo a questo evento perché pensiamo che sia fondamentale che anche soprattutto noi giovani siamo coinvolti appunto in maniera anche attiva a queste tematiche che crediamo che sia fondamentale che i giovani in questo periodo storico in cui appunto sempre meno vi è possibilità di un'integrazione reale all'interno del nostro paese appunto vi è necessità che si ricominci da queste attività per far sì che si tocchino tematiche importanti che i giovani appunto si approccino a poter parlare a poter esprimersi o comunque aumentare la consapevolezza appunto dei ragazzi su queste tematiche che sono appunto l'ambiente della legalità e dell'integrazione che è il tema più caldo appunto attuale al banchetto faremo un eco quiz quindi per testare la conoscenza dei problemi ambientali e anche delle soluzioni perché non ci sono solo problemi e poi semplicemente cercheremo di coinvolgere persone per un evento che faremo questo venerdì l'abbiamo già fatto il primo si tratta di Bikes for Future che è una manifestazione itinerante in bici con dei cartelli attaccati per sensibilizzare e usare mezzi meno inquinanti per respirare un'area più pulita quindi l'ambiente non è qualcosa di avulso da noi un'entità a parte ma è il posto in cui viviamo quindi dobbiamo prenderci cura dell'ambiente per prenderci cura di noi stessi il bilancio possiamo dire che è positivo però abbiamo lavorato tantissimo per riportare al luogo pubblico questo sito abbiamo avuto circa 3.000 visite durante l'estate scorsa inoltre abbiamo fatto la rassegna di musica e jazz l'anno scorso e quest'anno la ripeteremo a partire dal 27 luglio fino a 6 settembre e ci saranno altre manifestazioni oltre alla festa dell'Abba Festival con i giovani bagheresi soprattutto perché abbiamo finalmente questa collaborazione con l'associazione giovanile bagheresi che ci darà tanto aiuto a portare innovazione e partecipazione giovanile soprattutto in questo sito ed è tutto grazie per essere stati con noi appuntamento alla seconda edizione arrivederci